Allora, buonasera, siamo con la squadra della Pallavolo Alfieri Cagliari, c'è il capitano insieme a tutta la squadra, capitano, nome e cognome? Alice Palomba Alice Palomba, allora, com'è andata questa manifestazione che vi ha visto protagonista, siete partite con una vittoria, poi non è stato facile perché avevate di fronte avversarie forti? Esatto, esatto, avevamo di fronte avversarie molto forti, sopra il nostro livello nettamente, la prima partita è andata piuttosto bene diciamo che era l'unica partita che volevamo, cioè il nostro obiettivo, comunque il resto è stato un confronto molto importante che senz'altro ci farà crescere è stata una bellissima esperienza, la mia ultima esperienza in under quindi me la porterò nel cuore e nient'altro Grazie, allora grazie alla ragazza di Cagliari, salutiamo la Calabria Ciao Calabria